Il 42esimo Forum Ambrosetti. Di questa edizione devo dire che mi porta a casa il mix riuscito tra mondo imprenditoriale e mondo manageriale. Devo dire che sia a livello degli interventi che abbiamo assistito, sia nella platea, c'è infatti questo binomio tra due mondi che fino a ieri forse sono stati separati, ma che un leader del futuro deve necessariamente abbinare. Oggi l'imprenditore deve essere anche manager e il manager deve necessariamente cogliere quegli spunti di innovazione, di capacità di assumere rischi tipici dell'imprenditore. E anche derivando dalla mia esperienza professionale in ambito aziendale, essere a contatto con l'altra faccia della medaglia è stato sicuramente importante ed è un po' quello che ci porteremo a casa noi manager, che dovremo diventare sempre più imprenditori.